è lo sguardo maschile non per sua scelta ma per condizione fondante del lavoro svelarsi si uno spettacolo ma sarebbe meglio chiamarlo un esperimento l'esperimento di trovarsi una sera solo tra corpi femminili in assenza dello sguardo maschile e vediamo che cosa ci succede e dopo lo spettacolo ragioniamo sull'effetto che ci ha fatto non vede sette giovani donne insieme a una un po meno giovane che parlano svelandoli dei loro corpi di come li trattiamo di come li torturiamo di come non ci sembrano mai abbastanza no mai abbastanza magri ma è abbastanza belli ma abbastanza sensuali e questo mai abbastanza lo riportiamo alle nostre vite al fatto che non ci sentiamo mai abbastanza divertenti mai abbastanza realizzate mai abbastanza di successo mai abbastanza materne mai abbastanza femminili e scopriamo con una buona dose di risate di autoironia che proprio questo non abbastanza forse la chiave per capire poi quello che in fondo siamo e vogliamo vogliamo essere perché perché svelarsi è nato così è uno spettacolo una serata pensata per sole donne il desiderio di creare un luogo magari un po clandestino in cui ritrovarsi senza bisogno di portarsi dietro i ruoli le posture le maschere che portiamo ogni giorno perché viviamo ancora in una società patriarcale quindi ogni tanto bisogna crearsi degli spazi altri in cui riconoscersi sentire che le difficoltà che viviamo in ogni giornata non non dipendono soltanto dalla nostra storia individuale ma sono riconoscibili anche nelle storie di altre donne e perché ogni tanto credo che bisogna usare degli esperimenti ecco fare delle scelte anche un po scomode e strane che possono spaventare ecco fare qualcosa che magari di primo acchietto può spaventare per vedere che effetto fa è un esperimento ecco